La domanda al presidente Domenico Donofrio va subito dritta al cuore, cioè come ha funzionato il nuovo percorso? Perché era la parte che più di tutte vi preoccupava, ma mi sembra che il tuo sorriso e anche il buffetto che ti fanno gli amici che passano dica tutto. Ho ancora adrenalina a mille, per questo è stato bellissimo, ha funzionato tutto perfettamente, le chiusure delle strade, ringraziamo la posizione civile, soprattutto l'organizzatore Pietro Nardone che ha curato proprio il percorso, le macchine che addirittura hanno suonato durante il percorso, ma io sono rimasto tutto all'arrivo della rete a chiedere se c'erano stati dei problemi, nessuno mi ha detto che il percorso era brutto, tutti quanti si sono complimentati, ha funzionato bene anche le storie, io penso che possiamo essere soddisfatti. Il presidente deve dire, è giusto che lo dica lui, il grazie che va a? Allo staff, al mio staff, ai miei ragazzi che sono 100 persone che sto rompendo le scatole da 6 mesi, 8 mesi che sto organizzando, quindi a quelle 100 persone che non voglio fare nomi, ma a tutti quanti ringrazio perché sono loro, sono senza di loro, non farei nulla.